Bene, ma che succede qua? Sposta la testa e fammi vedere, dai! Oh, oh, eccola qua! Ecco cosa! Questa cosa! È tempo che ti narri una storia. Una storia? Per fortuna ho dei grilli come snack. Rafiki, continua! La storia di un principe che un giorno si sarebbe chiamato Scar e di un orfano chiamato Mufasa. Due fratelli partiti per un viaggio pericoloso alla ricerca di una nuova casa e di una nuova famiglia. Perché ci stai seguendo? Speravo di trovare il mio branco. Mi chiamo Mufasa. Io sono Sarabi. Mi chiamo Taka. Taka darà inizio a un nuovo regno. Vieni con noi. Tu non hai nessuno. Veramente lei a me. Lui è Zazu, il mio scout. Non mangiatelo. L'avete sentita? Non mangiatemi. Posti dove andare, regni da vedere. Finalmente cibo! Se mi togliete la vita, non scoprirete mai dove state andando. Taka, noi non lo mangeremo. Fantastico! Un altro che non mangeremo. Quindi tu vorresti che noi seguissimo questo babbuino delirante? Senza offesa. Ciarò al tuo fianco. Gli emarginati! Non è un'esercitazione! Ci sarà solo un re leone. Dobbiamo andare avanti. Lo dobbiamo noi stessi. Siamo in trappola. Che facciamo? Pronti a correre! Io non ci volevo venire qui! Siamo venuti per governare senza pietà. Taka! È stata una pessima idea! Io non mi piegherò al male. Dobbiamo combattere insieme. Il nostro destino si avvicina a Mufasa. E quindi la Terra deve tremare. Alt! Ritiratevi! Sono addestrato e pericoloso. E a volte effettuò... Sarò al tuo fianco! Grazie per la visione!